La prassi era ormai consolidata. Infermieri del Policlinico di Bari che effettuavano i prelievi di sangue a domicilio, sopperendo ad un servizio non previsto dalla ASL. Il problema è che quel vuoto era riempito anche con il pagamento della prestazione. 20 euro hanno accertato i carabinieri dei NAS, intervenuti martedì scorso nel reparto di emofilia del Policlinico, scoperchiando una situazione tollerata in silenzio. Saranno le indagini dei carabinieri ad accertare eventualmente se ci sono state pratiche illecite da parte degli infermieri e nel caso il presidente del collegio Ipasvi di Bari, Saverio Andreula, si dichiara pronto ad avviare procedimenti disciplinari. Ma la questione resta e a giudizio di Andreula va risolta sul piano normativo e regolamentare, colmando una lacuna che è solo della professione infermieristica. Una circostanza francamente insopportabile per la professione sanitaria di infermieri. Vista dal punto di vista legata all'esclusività del rapporto di lavoro, io dovrei chiedere a chi si occupa di questo come mai i medici possono esercitare in attività alpi la libera professione, addirittura poter anche nel rapporto di lavoro pubblico recarsi a domicilio del paziente per eseguire delle visite o dei trattamenti terapeutici e per gli infermieri questo non è consentito. Stiamo parlando di un esame che è di fatto strumentale e che è riconosciuto nell'abilità e nella competenza dell'infermiere. Per cui sarebbe possibile da questo punto di vista autorizzare gli stessi infermieri in ragione del principio non tanto della libertà di esercizio professionale, quanto della scelta che ha la base di questa definizione contrattuale che il paziente esprime. Il paziente legge nel professionista la possibilità di avere un prelievo diciamo fatto a regola d'arte, fatto laddove si esalta il rapporto tra il professionista e il cittadino, esattamente come avviene nell'attività libero professionale che si recita il medico. Intanto nella giornata di mercoledì l'ASLBAT ha inviato una circolare al direttore del SIMT e al direttore dell'unità operativa di patologia clinica di Andria, ai responsabili dell'unità operativa di patologia clinica di Barletta e Biceglietrani e ai direttori delle direzioni mediche degli ospedali del territorio per chiarire quali siano gli adempimenti in merito ai prelievi domiciliari.